L'elezione olivettiana è per la prima volta a Roma in un ciclo di tre incontri dedicati interamente alle città di Olivetti in collaborazione con Maxi. Si comincia domani, il 29 novembre, con Ivrea, poi il 6 dicembre sarà la volta di Matera e del villaggio della Martella. Si chiude il 23 gennaio con un incontro dedicato alla fabbrica di Pozzuoli. Dove ci vediamo? Ci vediamo al Maxi! Ci vediamo al Maxi! Dove ci vediamo? Ci vediamo al Maxi! Dove ci vediamo? Al Maxi! Ci vediamo al Maxi!